Lei è un dono prezioso in carne e ossa. Celebre giornalista televisiva colombiana e amante di Pablo Escobar, Virginia Vallejo racconta alla DEA gli anni della loro relazione e dell'ascesa vertiginosa del patron di Bogotá. Dopo la serie Netflix e The Infiltrator, il dramma di Fernando León de Aranoa assume il punto di vista della giornalista e concentra il film sulla relazione tumultuosa dei due amanti. Generico e posticcio come le acconciature dei suoi protagonisti, il film si accontenta di raccontare una serie di episodi biografici senza riempire i vuoti con l'immaginazione. Solo quando è concesso, Javier Bardem e Penélope Cruz aprono bagliori di luce esprimendo la verità emotiva dei loro personaggi. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori di